Domenica nera, drammatica tragedia familiare infatti ad Ortona con due fratelli Roberto 70 anni pensionato ed Antonio 75enne affetto da una grave infermità che sono stati trovati privi di vita nella loro abitazione in via Tripoli. In un biglietto trovato in casa dai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda lasciato da Roberto Tatasciore che si occupava del fratello maggiore sarebbe stato spiegato il motivo dell'omicidio suicidio. Secondo quanto ricostruito dalle prime indagini Antonio quindi affetto da grave disabilità aveva bisogno di continue cure. L'altro si occupava di lui ma evidentemente la responsabilità era ormai insostenibile. Nel pomeriggio della Domenica mentre il disabile era sul divano il fratello gli ha stretto un filo elettrico attorno al collo soffocandolo. Poi Roberto si è impiccato. Quindi la riva in casa del terzo fratello che era andato a trovarli come spesso faceva e lui che ha scoperto le vittime dando l'allarme. Ecco il racconto di un vicino di casa. Di recente il fratello siccome non ce la faceva più a tenerlo a badarlo lo volevo sistemare in un istituto e penso che lui si sia rifiutato e in base a questo rifiuto credo che sia successo quello che è successo. Le salme dei due uomini sono state trasferite nell'obitorio dell'ospedale di Chieti per l'autopsia di Rito. I due fratelli Tatasciore non erano in carico ai servizi sociali dunque una famiglia normale. Il sindaco Leo Castiglione. Siamo tutti sconvolti, la cittadinanza è rimasta sconvolta per questo episodio inatteso, inaspettato che logicamente colpisce a livello umano di comunità. Una disgrazia personale che forse è frutto della disperazione, questo non siamo in grado di poter specificare meglio, ma certamente è qualcosa che ci tocca a tutti e quello che possiamo fare è far sentire la vicinanza come amministrazione, come cittadinanza al fratello, alla cognate, a tutti i familiari per questa grande disgrazia. Erano due fratelli pensionati che non avevano necessità del supporto dei servizi sociali, quindi assolutamente no. Credo che sia semplicemente un caso di disperazione umana e personale che ha portato a questo gesto.